Leonardo Perez torna dal primo minuto. A campo basso sarà finalmente l'ora del capitano della Virtus Flanacavilla. Dopo essere partito dalla panchina, anche un po' a sorpresa contro la Turris, il numero 10 biancazzurro tornerà nello schieramento di partenza contro i molisani. Non facile l'avvio di stagione del 32enne mesagnese che ha dovuto fare i conti anche con un serio infortunio al ginocchio e con tre turni saltati per squalifica dopo il match di Palermo. Soltanto otto presenze, di cui tre da titolare. La prossima, invece, sarà la partita numero 50 con la maglia della Virtus e il mesagnese adesso punta a lasciare il segno per la prima volta in questa stagione per aggiornare a 16 il numero dei gol con gli imperiali. L'obiettivo è diventare il bomber più prolifico del Flanacavilla in serie C. Intanto, dalle cronache, arriva una notizia importante perché è stato arrestato un tifoso della Fidelisandria per aver fatto esplodere un petardo nel match contro il Bari. Un episodio simile è accaduto proprio domenica scorsa a Francavilla Fontana nel settore ospiti riservato ai tifosi corallini durante Virtus Francavilla Turris. Anche in questo caso è esploso un grosso petardo che fortunatamente però non ha fatto registrare nessun danno a cose o persone, se non tanta paura per i presenti. Su di lui sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per risalire l'identità dell'uomo che ha messo in pericolo non soltanto i tifosi del settore ospiti, luogo in cui è esploso il petardo, ma anche i tifosi francavillesi della vicina tribuna. Grazie a tutti.